Buongiorno a tutti voi, oggi andiamo a fare una salsa, però prima di andare a vedere gli ingredienti vi devo chiedere di iscrivervi al mio canale youtube e di questo ve ne sarò grato anticipatamente. La salsa che andiamo a fare è la salsa marinara, la sua origine è la campagna, gli ingredienti per queste salse sono della menta, del prezzemolo, dei tuorli di uovo, del pane ammollato e poi strizzato, olio, aceto, sale, pepe. In un recipiente adatto al mixer andremo per prima cosa a mettere un po' di olio, i tuorli dell'uovo, la menta tagliuzzata, il prezzemolo tagliuzzato e quindi andremo a fare una crema con il mixer, poi pian piano aggiungeremo prima il pangrattato, poi ancora l'olio, l'aceto, il sale e il pepe. Bene, questo è il risultato. La salsa alla marinara, una ricetta di origine campana, è fatta e pronta. Da utilizzare per accompagnare piatti di carne ma anche di pesce. Un buon sapore, un buon profumo e con questo vi auguro buon appetito.